se guardate il mio negozio è un negozio dove tutti i vini tutte le cose che sono state portate qua sono state scelte con molta 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 attenzione e la scelta del panettone louison che rappresenta secondo me una delle massime espressioni della qualità della freschezza del poter sentire che il prodotto artigianale fa sentire molto molto vicino a casa mi fa sentire che sia stato fatto quasi proprio per me dietro l'angolo che sia un regalo di mia madre che mi vuole fare fatto così per cui mi piace in modo straordinario attenzione massima alla qualità attenzione massima al prodotto la tradizione italiana rivisitata e portata in america nel 2020 tra i nostri clienti abituali avevamo un famoso cliente di nome bud spencer che era innamorato di louison panettoni e poi abbiamo altri clienti famosi tipo handy garcia fitti paldi anche giocatori di golf famosi di tennis e questo è il nostro angolo del louison panettone dove facciamo il nostro display i nostri clienti sono innamorati di questo panettone quindi ogni anno compriamo sempre di più perché abbiamo veramente un grande successo bellissima produzione ogni volta che apri una busta è un aroma che esce fuori fantastica sono sempre belli soffici con un sapore spettacolare introduciamo molto questi panettoni agli americani che non hanno un'idea cos'è festeggiare il natale seriamente come un italiano e non può mancare un panettone su un tavolo qui in america abbiamo cominciato con loison cinque anni fa con un prodotto di altissima qualità i clienti vanno pazzi della del panettone della louison e quest'anno abbiamo ricevuto sui 1800 panettoni quello che va di più è la il panettone marron glacé e portiamo anche dei panettoni giganti che sono già andati via tutti il panettone marron Grazie a tutti.